Buonasera a tutti, oggi io e mio amico Diego giochiamo a Zombie Royale Che abbiamo messo? Oggi potete guardare sui canali di Max perchè ha scritto sui commenti nell'altro video come si chiama il suo canale e sul suo canale escono dei video con me potete guardare come io gioco con lui ma potete guardare ma adesso io faccio video solo su gaccia life come fa Iegor eh vabbè non faccio più gaccia life forse qualche volta parlo a una persona che le ha fatte mille volte vabbè io sono atterrato in un posto fighissimo mi sto lottando mi sono preso delle armi bellissime puri io c'ho tante epiche e due pistole così io sono entrato nella casa questa cosa non mi serve prima che abbiamo cominciato il video io e mio amico Diego l'abbiamo preso c'è una casa metto questo no no aiuto aiuto mannaggia la miseria ma che è? è un guaio ma dove sei? io? e tu dove sei? tennacismo dove eri? ma tu eri qua io ero atterrato qua avevo preso delle cose buonissime ma tu eh dopo dove sei stato? sono andato nell'altra parte e sono uscito e vediamo c'è la mia pistola preferita quale pistola? c'è una arma leggendaria fuori ah ah c'è una arma leggendaria se guardi il mio video se guardi il mio video potrai vedere un'arma leggendaria e io? se guardo il tuo video potrò guardare un niente se io guardo il tuo video potrò vedere dove eri tutto il momento ma che? ehm ehm baleno un'ulta balla ah noi abbiamo però gli uguali skin ma questi due sono dei fratelli avevano delle cose uguali spero no 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 non cadiamo adesso alla fattoria cadiamo ah no 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 cadiamo adesso e vogliamo di la di la hai capito lucky 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 non ci sta non siamo solo noi ci stanno ancora delle e io già c'era una pistola no io c'era un'arma epica c'è io ma che? non ci volevo nemmeno pensare vieni da me io ho mangiato questo l'ho fatto vedi a questo guarda sul mio tablet guarda vedi io l'ho sparato lui è si ma aveva un'arma e una pistola lui mi ha sparato dalla pistola hai capito? no si si capito oh oh che? picca picca che che che? picca alutrop aspetta tu per il momento lo prendi ah no no ci stanno tante persone che? picca e io vieni attenzione ah ma non c'è la misera e vabbè ma io lo ricaricavo la mia arma ah boh meno due persone hanno ammazzato tu quante c'ero eeeh che ci può fa? ma mettiamo vip vip oggi ero due volte vip io una volta vip significa che che noi che uno di noi sarà che avrà duecento di vite duecento di di scudo se lui muore muriamo tutti noi no come un re se muore il re anche noi muriamo ma che è un temperino questo blu che è? si temperino blu lol ha detto mi puoi temperare la la mazza no a me la mano a me la mano aaaaah no ma non è da da qua al lato don't eat eat ma perchè eat all'attacco l'ho i 40 io ma tu max guardate io premo cadere e non posso perchè max se cade tutti noi dovremmo dove ci buttiamo? luke waki luke waki luke waki luke waki ma quelli non ci importa niente ah ce l'ho diceva abbiamo diventato a dire una cosa ma se noi ci togliono la vita non la possiamo avere più di vita no perchè noi le guardie di di me ah non è il nostro ma quello ce l'ha una leggenda ma no ma che ma che ma ce l'ho cogliata la nostra cosa e anche io voglio chiedere una cosa ma uccidetelo ma come lo ammazzo se non lo possiamo sparare ok lo possiamo uccidere vedi quale pensa che noi siamo la sua spara c'è un raya c'è un re aiuto ci ditelo ma quello di nostro sulla mappa fa vedere che è uno nooo si sulla mappa ma lo sai ma sai ma io l'ho sparato allora ma dai ma perchè mi hai rubato è un giorno di una pistola bello 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 ma c'è ma ci stanno delle armi a terra venite da me ti lancio un'arma perchè lui non ce l'ha il nickname no ma sulla mappa se guardi ci sta io sono vicino a te vicino a te ci sta l'arancione ma forse il gioco si è buggato ma quello non ha nemmeno il nickname ma che c'entra forse il gioco si è buggato è tipo si si su terra su terra non metto questo jambis royals anche se è nostro ha giociso uno io non mi confondo se vedete che qui sulla mappa fa vedere un'arancione vicino a noi perchè questo è di nostro arancione ecco perchè non ce l'ha il nome te l'ho detto mannaggia la miseria ma che era ma perchè dobbiamo confodersi ma perchè dai dove andiamo da qualche parte in questa casa ma io ho 56 61 di scudo e io ce l'ho 50 vabbè perchè sei il re ce l'ha tutte le cose buone e che vuole ma no io volevo dire volevi l'arma ma eeeh ti sparo puoi dacciare a zero colpi ma forse mi servirà io ce l'ho la leggenda io mi confondo lo voglio sparare ma pure io pure io ma 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 quello ho preso l'arma leggendare ma ma che aspetta li scrivo aspetta l'armi ecco è il temperino prima eri con noi però prima ci volevi è andato a terra cagnolino a terra no fammelo cito a me leggendaria ma dai ma ma ecco c'è un re il re dov'è dove è il re è che è il nostro ma mamma mia abbiamo ammazzato che ha ciso io no io ce lo cerco allora com'è mannaggia mannaggia se hai visto che era caduto sulla mia testa mannaggia la miseria ma aspetta pulisco il mio avventare no mannaggia ho preso io io lo voglio prendere mannaggia vai a te va ho preso ho preso mannaggia max ma da non fa niente io ce l'ho un'arma leggendaria e io vedi che armi ho belle ma dai ridammi dammi una dammi a me una hai capito hai capito dammi unas armas no e che oh 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 mia arma siii ho avuto un'arma ma non ho quanti per di noi e io dammi a me una ma no 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 me ne vado ma perchè il gioco si laga ma no ah no ah no io non ce l'ho nemmeno i polvini ah ma faccia giocare a me il gioco mi laga ma dai ma questo è nostro laga il gioco ma dai io lo voglio sparare alza il nostro aspetta ammazzo questo re che no no non ho visto quanto avevo di vita no aiuto no no eppure adesso muro e per oggi amici ero io jehor e max e per oggi posso finire il video ancora era jehor max e ci 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 ciao ma io non finisco ciao 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 ciao